500 kg di generi alimentari e 100 paia di scarpe, tanto pesa la solidarietà degli imprenditori aretini che hanno subito detto sì all'appello di Piero Iacomoni, presidente della Fondazione Monnalisa Onlus. L'importante donazione è stata nei confronti della casa circondariale San Benedetto di Arezzo durante i mesi della pandemia. Arezzo è un circondariale, circondariale significa che vengono portate le persone arrestate, quindi generalmente il 90% delle persone arrestate è gente indigente, quindi che non ha nulla dalle scarpe alla sigaretta, al mangiare. Quindi voglio dire per noi avere questo apporto è assolutamente fondamentale. Qualcuno degli imprenditori più disponibili ha cercato di ricordare che questo Covid ha proibito l'entrata nella casa circondariale di prodotti che normalmente potevano portare i parenti e tutti coloro gli amici, coloro che conoscono bene le persone che ci sono. Abbiamo sostituito questa necessità e Don Dino Liberatori, che è il parroco del carcere, ha sempre fatto questo tipo di lavoro. E' bastato un invito per smuovere con qualche telefonata degli amici, colleghi, che poi si sono mossi tutti per la Fondazione Monnalisa e quindi per il carcere. In totale sono state donate 100 paia di scarpe da uomo e da donna dall'azienda MOA. Per quanto riguarda i generi alimentari, 120 kg sono arrivati da pasta a Fabianelli, 70 kg di riso da Conad, 100 kg di fette biscottate da Buitoni, 60 kg di formaggio dall'azienda Rossi SRL, 100 kg di biscotti da Corsini, 20 kg di gelato dalla gelateria Luna 4, 180 succhi di frutta e altrettante merendine da Coiba e 50 kg di caffè da Espressiv. Ci troviamo in una struttura bellissima, ma insomma non ci troviamo qui per caso. No, no, Agrisalotto è un posto meraviglioso che ci ha ospitato spesso in questi eventi. Lui fa parte delle persone che hanno contribuito insieme a Piero a far sì che questa cosa avesse successo. Una mano tesa dunque verso il carcere di Arezzo, molto apprezzata. Non ho trovato mai, diciamo così, un intervento da parte del volontariato quanto Arezzo, per cui veramente, e non lo dico tanto per dire, ecco, lo dico anche perché noi direttori siamo schietti, quindi se c'è una cosa la diciamo senza nasconderci. Per questo è stato veramente un intervento e spero che continui.